Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri, 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri, 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via vecchia Puggerale 45, o se preferisci scrivici una mail info-eurograph.net Apicoltura Vesuvio L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle armi. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. La riviera di Partenope Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214 Telefono 081-1933-8714 Ed eccoci qua, buonasera, benvenuti, anzi bentornati a questa decima ed ultima puntata di Punti di Vista Un velo di tristezza sta attraversando lo studio che abbiamo popolato e affollato in queste dieci puntate Chiaramente tantissime le persone che si sono avvicendate alle nostre poltrone Tutti i personaggi di grossissima levatura e di importanza anche sotto l'aspetto socio-economico della città Ricordo che Punti di Vista è una trasmissione creata, ideata e diretta in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine, ager Campanus editrice Anzi stasera abbiamo il piacere di avere dietro alle telecamere Esmeralda Mameli che è la nostra corrispondente da Procida Saluti e ringraziamo Esmeralda per essere venuta e per assistere a questo mio un pochino gorgoglio vocale Passo a presentare gli ospiti, questa sera abbiamo il privilegio, devo dire, di avere il dottor Antonio Ferrieri, presidente Confapi Buonasera Fatemi fare una sorpresa Luigi Carfora Presidente di Confimi Industria Campana E sapete perché ho fatto questo? Perché è la prima volta purtroppo nell'ultima puntata Quindi Luigi benvenutissimo Alla mia sinistra abbiamo Giuseppe Esposito, operatrice del settore del turismo Già stata nostra ospite, titolare di una bellissima struttura dedicata all'ospitalità che è Reginella E poi abbiamo l'immarcescibile Roberto De Laurentiis che è presidente federazione Orafa Campana Perfetto Niente, partiamo subito a Mazzaseca con Antonio Antonio è un periodo importante, anche abbastanza travagliato, quello della tua presidenza Un riassunto brevissimo delle cose già fatte Poi parleremo di quelle da fare, chiaramente Allora, la Confapi, come tu ben sai, è un'associazione di categoria che proprio quest'anno ha compiuto i suoi 75 anni Infatti, sì, avete festeggiato Dal 1947 al servizio delle imprese, non si può dimenticare questa cosa È un'associazione che sta sempre sul pezzo, chiaramente Cercando di risolvere quanto più problema tutte le persone, sia associate o tutte le persone che ne richiedono chiaramente il proprio aiuto In quest'anno si sono fatte tante belle cose, sicuramente Tu ti sei trovato a gestire il post-Covid, ti sei trovato a gestire un momento veramente drammatico per l'economia e per il commercio della città Sì, noi abbiamo vissuto tutto il periodo della pandemia dove, diciamo, il 90% dell'azienda stavamo tutti in crisi Di conseguenza, io nell'occasione ho cercato di dare la mia disponibilità principalmente a tutti gli associati Se eventualmente potevamo cercare di trovare una soluzione facendo sistema quanto più forte possibile In modo che poteva essere una soluzione per cercare di risolvere il problema ma eventualmente di combattere il problema in quel periodo storico Fortunatamente ci siamo riusciti perché siamo stati molti uniti e questo è stato un fatto positivo Ci ha dato la possibilità che tutti quanti noi, ognuno collaborava in base alle proprie attitudini Per cercare di portare quanto più possibile ai propri imprenditori chiaramente quello che era i disagi Di colmare i disagi che noi abbiamo vissuto in quel periodo Purtroppo non si è potuto fare quello che si poteva Io ricordo le grandi chiacchierate perché poi ci siamo quasi intervistati a vicende Io sono venuto più volte a sentirti Allora io prima, poi ritorniamo su Antonio E volevo dire questa cosa carina di Luigi Luigi Carfora, il consiglio direttivo sceglie come presidente del consorzio su gestione campana e quale presidente di Confimi Campania Un ruolo importante, un mercato particolare perché stiamo parlando di industria e quindi un mercato delicato ma anche molto impegnativo Sì, infatti ho onorato di coprire questa carica da luglio 2021 Non a caso noi ci troviamo a lavorare in una regione in cui ci sono più associazioni di categoria che industria o imprese stesse a rappresentarle Questo non è un fatto positivo, anzi è un fatto negativissimo Anche perché le storiche, quelle più rappresentative potrebbero, dovrebbero comunque rappresentare i bisogni, le esigenze delle industrie, del commercio, dell'artigianato e dei servizi Però c'è stato una sorta di sfilacciamento C'è un sfilacciamento perché le imprese non si sentono rappresentate, non sono rappresentate Ma oltre a dire non sono rappresentate c'è un allontanamento proprio dalla cultura associativa Ma non che la Campania o il Meridione abbia questa grande propensione o simpatia per fare associazionismo C'è molto individualismo Ma questo criterio o questo problema, pregiudizio antropologico può essere sicuramente superato con un'attività che tende, che dovrebbe tendere a creare fiducia tra le imprese e quindi nel tessuto imprenditoriale Fatti provocare un attimo perché stai dicendo delle cose importantissime Ti ringrazio Diciamo che le associazioni di categoria negli anni trascorsi però hanno anche un po' mollato le briglie Quindi c'è stato questo allontanamento perché la gente non si sentiva più rappresentata Infatti sottolineo ed evidenza, sottoscrivo quello che tu stai dicendo Che se molte imprese non sono iscritte perché non sono rappresentate, non si sentono rappresentate Ci sono grossi problemi che le industrie in particolare affrontano quotidianamente E che sono legati a problemi di mano d'opera qualificata, che non ce n'è non qualificata Una volta si faceva tanta formazione e è finita anche quella Infatti sì, ma se la formazione viene fatta negli enti di formazione Senza che questi, sia i formatori che le stesse persone formate, vedano mai l'azienda Non è formazione, la formazione la si ha concretamente quando viene fatta nell'azienda, nell'industria Quando si percepisce e si tocca con mano quella che è l'attività da svolgere Ma fino a quando ci sono criteri solo per spendere fondi pubblici al fine di formare su carta ma non nella sostanza Allora questo non supererà mai quella difficoltà, quella criticità che noi dovremmo e che vorremmo superare Per dare sbocco commerciale Allora il problema non è tanto il reddito di cittadinanza o il salario minimo Perché le maestranze qualificate prendono più di quello che è dato dal contratto nazionale E quindi sono soggetti ricercati perché non si trovano Perché molti giovani vanno all'estero Poi ci ritorniamo su questa cosa Giussi, Giussi c'è un pochino il termometro di quelli che sono i flussi turistici Pur rappresentando una piccola struttura ma è una struttura che oramai è sulla bocca di tutti In senso positivissimo chiaramente Ne parlano negli Stati Uniti, in Giappone Ne parlano veramente ovunque Io vado a guardarmi, l'ho spiata tantissimo a Giussi Esposito Sono andata a guardarmi le recensioni Lei è il top, veramente è il top dell'ospitalità Grazie Io volevo dire una cosa però Prima di questa grandissima presentazione Ho letto un articolo su un giornale nazionale Dove mettevano in prima fila Milano, Firenze e Roma E poi Venezia E sono andato perché essendo io un ficcanazzo Sticchi bicchi dicono gli americani Sono andata a guardarmi i dati Noi siamo al 97,8% di ospitalità Di pieno Quindi sto parlando di night over E questi qua non arrivano al 67%, 82% La più alta è l'82% che sarebbe Roma Come la spiego questa cosa? La spiego in termini molto pratici Ciò che caratterizza e differenzia Napoli dalle altre città italiane Quale Roma, Firenze e Milano piuttosto che Venezia È proprio la ospitalità Il nostro modo di fare accoglienza È proprio quello che ci caratterizza e ci differenzia dagli altri Il nostro sapere accogliere il turista e farlo sentire in casa propria Ecco perché io ribadisco sempre che le strutture ricettive Devono soprattutto puntare sulla ospitalità, sull'accoglienza Perché le altre città italiane sono dei contenitori d'arte Mentre Napoli ha quella marcia in più Contenitore di vita? Esatto, contenitore di vita più che contenitore d'arte Nonostante il patrimonio storico, artistico, culturale che noi abbiamo E che tutto il mondo ormai ci riconosce Però è proprio questo Il fatto che il turista a Napoli si sente accolto Si sente come se stesse in casa propria Perfetto Roberto, io stasera a te ti devo mettere un pochino di pepe addosso La Bolle è un esperimento straordinario Un laboratorio di impresa Del polo orafo napoletano Da quel lontanissimo primo esperimento Otto giovani, imprese selezionate attraverso un bando E poi incubate Qual è lo stato dell'arte? Allora, lo stato dell'arte Noi abbiamo questa scuola Al di fuori dell'incubazione Che diciamo sono rimaste poche aziende Ma più che altro stiamo lanciando tanti giovani Posso dire Molta formazione Molta formazione Perché Noi abbiamo una formazione pure autofinanziata Cioè chi viene paga pure Non è che aspettiamo che la regione ci dia qualcosa Io tengo un giovane che viene dal Messico Due di Bolzano, tre di Milano Che vogliono imparare l'arte e ora fa napoletana Che c'è una tradizione Non ci dimentichiamo che il Museo di San Gennaro Stiamo parlando del 1300 La nostra forza è questa E siamo L'ultima novità Non posso dire il gruppo Un grosso gruppo del nord Che in questo momento ha bisogno di 1500 unità lavorative Di Valenza Po Ci ha finanziato dei corsi Dove abbiamo fatto una selezione Insieme alla fondazione del Banco di Napoli Del centro storico Dove abbiamo selezionato 11 ragazzi Che sicuri Dopo i tre mesi nostri Andranno a lavorare A Valenza Po Faranno altri quattro mesi retribuiti Chiariamo Gli daranno anche l'alloggio E poi lavoreranno per questo grosso gruppo Il mercato del super russo Voglio chiarire È fortissimo È fortissimo Ma non in Europa E non incontra mai crisi Ma non in Europa Che mi diceva il direttore di questo grosso gruppo Che è veramente grosso Che ha più marchi Che loro Del mercato europeo Non è che abbiano molta importanza Loro hanno tutta l'Asia Sud America Stati Uniti Dove noi possiamo esprimere La nostra potenzialità E facciamo economia Perfetto Antonio La grande contraddizione Del Sud Italia Con particolare riferimento a Napoli Le cose che diceva prima Perfettamente E che trovano anche La mia attenzione Luigi Confliggono chiaramente Con quelle che sta dicendo In questo momento Ha finito di dire in questo momento Roberto Ricerca Formazione Io non so Nel tuo settore Più o meno la stessa cosa O state messi un pochino meglio Peggio Come state messi Per quanto riguarda la formazione Perché anche i pasticcieri Sono molto richiesti Tu devi sapere Che purtroppo C'è una carenza Noi dovremmo lavorare molto Ma molto Sulla formazione Del personale Io dico sempre Ci dovrebbero essere più scuole Per gli artigiani Ma qualsiasi tipo di lavoro Ma dovremmo incrementare Tu considera che noi siamo famosi Per tante cose In Campania Però purtroppo col tempo Spero che non sia così E mi sto sbagliando Ho paura che possano morire Perché non c'è un ricambio generazionale E quello è un danno grosso Speriamo che ti sbagli tutti quanti Io spero che mi sbagli Difatti io ho detto Molte volte Ho detto all'istituzione Perché non facciamo scendere Pure i messieri per strada In modo che cerchiamo Eventualmente Pure al turismo Di far vedere Le nostre ricchezze Tu consideri Io ultimamente Ne parlai pure Col sindaco di Napoli Disse Se voi mi date la possibilità Di mettere un laboratorio In una qualsiasi piazza Io faccio diventare il turista Passicciere per un giorno E sarebbe una bella cosa Questo nel mio settore Chiaramente lo possono fare chiunque In tutti i settori Abbiamo delle Io dico sempre Abbiamo delle ricchezze Spesso facciamo fatica Pure a comunicarle E questo è un danno Per la nostra regione E' un peccato Però bisogna insistere Sulla formazione dei giovani E creare delle scuole E su questo tu hai fatto scuola Perché io ricordo Facevamo corsi di formazione Giovani passiccieri Io vi fermo un attimo Se no i nostri sponsor Veramente ci linciano Pubblicità Cuore di sfogliatella Siamo a Corso Novara 1E 1F Piazza Garibaldi 93 e 94 Via Toledo 271 E all'interno Della Fodol Nella stazione centrale Di Napoli Cuore di sfogliatella Chiocciolagmail.com Dottor Maurizio Gargano Medico chirurgo Medico chirurgo odontoiatra Via Luigi Caldieri 54 Napoli 081-560-2208 Numero Albo Odontoiatri 1488-1488 Eurograph Eurograph La nostra storia inizia nel 1992 Oggi siamo un'azienda all'avanguardia Nel settore della grafica e della stampa Siamo cresciuti con l'esperienza La passione e la passione e la competenza per il nostro lavoro Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi Dalla progettazione alla stampa offset Dalla pubblicità al web marketing Cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo Allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione Affidati alla nostra professionalità Perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare Ma farsi ricordare Ti aspettiamo a Napoli In via vecchia poggiore alle 45 O se preferisci scrivici una mail Info chiocciolaeurograph.net SIDELMED SPA Verifiche di attrezzature di lavoro Impianti elettrici di messa a terra Ascensori E certificazione di sistema www.sidelmed.it Apicoltura Vesuvio L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984 È ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano Grazie alla qualità e dalla genuinità dei suoi prodotti Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio Permettono la produzione di diversi tipi di miele Monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato Senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura E dal grande lavoro delle api L'ambiente ancora incontaminato del parco del Vesuvio L'accurata selezione degli sciami E l'assoluta genuinità della lavorazione Rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio Adatti ad ogni uso Sia esso terapeutico che gastronomico L'apicoltura Vesuvio si trova a Delcolano Intraversa del sito 14 www.apicolturavesuvio.it La riviera di Partenope Cucina tradizionale napoletana E favolosi piatti gourmet Siamo a Napoli In via Riviera di Chia 214 Telefono 081-1933-8714 Eccoci qua, bentornati Io sto leggendo anche moltissimi amici che ci stanno scrivendo da casa Pochi argomenti ragazzi Abbiate sempre pietà di me Io vi chiedo scusa Sono tanti e sono anche veramente molto importanti Non che le vostre domande non lo siano Per l'amor di Dio Sono mi picchiate appena esco Sono importantissime Però io cerco di dare quanto più spazio è possibile Agli ospiti per lo meno Per essere esaustivi E darvi quanto più informazioni è possibile Quindi noi partiamo da Luigi Carfora Luigi, quando uno sente questi paroloni alti Sono anche industria L'industria nel sud Italia E non solo in Campania È stata letteralmente martoriata Desertificata Moltissime sono Cioè pochissime sono quelle che Eroicamente e stoicamente Come disse un signore che a me non è tanto simpatico I commercianti, gli industriali italiani e campani Sono degli eroi Quanto vi sentite eroi voi? Tu ti ricordi chi lo disse, vero? Ma sì, comunque in ogni caso In Campania abbiamo poche industrie Altamente automatizzate Quindi scarsissima mano d'opera Ma questa in pratica è l'Europa Questa è il nord Italia L'industria del nord Italia è altamente automatizzata Quindi poca mano d'opera E più competitivi sul mercato E quindi questo è un primo gap Che l'industria campana Sconta nei confronti di un'industria europea Un'industria del nord Stai dicendo una cosa molto molto pesante Tecnica Ma anche molto pesante Sì, infatti Perché adesso ti hai Motivo per il quale c'è bisogno di una mano d'opera Altamente qualificata Per stare sugli impianti Ma c'è da dire anche un'altra cosa Che la Campania conta pochi brand importanti E molte altre aziende sono comunque vecchie Non si sono aggiornate Non hanno quel tipo di aggiornamento tecnologico Per fare da poter essere competitivi sul mercato Però la domanda è un'altra Scusami Io ogni tanto devo interrompere gli ospiti Anche se è antipatico È vero Sì ci sta un target di tecnici Che si sono qualificati Specializzati ecc E tutto il resto? Infatti tutto il resto Che gli diamo? Il reddito di cittadinanza O li vogliamo riconvertire? No, noi siamo passati Cosa fate voi come sindacato per questo? Siamo passati Questo è quello che sto facendo io Cercando di dare un indirizzo Uno sprono alle istituzioni Perché da uno Stato Che era quello della prima Repubblica Che governava i processi commerciali Imprenditoriali della nazione Ma anche il bilancio commerciale E import-export Ad uno liberista Quindi libero mercato Dove il mercato guarisce con il mercato E quindi questo non ha giovato Per quale motivo? Perché le regole del mercato libero Sono regole da giungla E quindi chi è più forte Sopprime quello che è più debole Debole in termini di marcio In termini di marcio Di competitività Di prodotto Di prezzo E quindi c'è da dire anche un'altra cosa Che con l'apertura delle frontiere Le aziende campane italiane Hanno scontato anche il danno cinese Dell'importazione dei prodotti cinesi Io stavo arrivando a questo proprio Risulta anche a te una controtendenza In questo caso La Cina sta cominciando a comprare Meccanismi e prodotti italiani industriali No, la Cina ha comprato sempre Know-how E poi Se li fa da sola Sì, ma non solo Molte imprese sono andate in Cina a produrre C'è un fenomeno diverso A post-pandemia Che molte aziende italiane ed europee Dalla Cina Stanno ritornando in Europa O addirittura In alcuni altri paesi Tra cui l'Italia Che è poco attrattiva A livello economico Motivo per il quale Il governo italiano E molte nazioni europee Stanno attenzionando In Nord Africa Persì Oltre al discorso Dei migranti Cina alta moda Sta andando fortissimo Sì, infatti Ma hanno un grosso potere economico Sono stato a Shanghai E a Pechino A due fiere intercontinentali Però noi Quando parliamo di Cina Immaginiamo solo Il prodotto non-food O quello tessile C'è da dire che invece Non è così La Cina Esporta anche No, a parte la tecnologia Ma esporta anche Prodotti alimentari Non tutti sanno Del pomodoro Dei pinoli Sì, sì Della frutta secca Cioè Della liquirizia Addirittura Noi mangiamo Delle liquirizie Pensando che fosse Che sia Liquirizia calabresa Invece non è Liquirizia calabresa Lo stesso per i pinoli Quelli là Cinesi sono Microscopici I cinesi sono piccoli E quindi E bianchi Poi ci sono Indiani Pakistani E quindi Pinoli italiani Sono pochissimi E costano anche Tanto in più E costano tantissimo Perfetto Giussi Allora Il segreto Il consiglio Se dovesse presentarsi Da te Un collega Dicevo Appena aperto Come devo fare Per raggiungere I tuoi livelli Allora La politica Che ho sempre adottato Nel mio lavoro E che mi ha portato Negli anni Ad avere grandi soddisfazioni È stata quella Di puntare Sull'accoglienza Sull'ospitalità Che ci differenzia Dalle altre Insomma Città italiane Quindi Puntare Sull'accoglienza Vuol dire Che il turista Il momento in cui Sceglie Napoli Come meta Del suo viaggio Deve rigorosamente Necessariamente Accuratamente Essere Accolto Ed informato Napoli ha preso 75 milioni Di click Voglio precisare Sta cosa 75 milioni Di click 75 milioni Di persone Si sono collegate Per vedere Napoli Ma Napoli Che storia Stuttura Per prima Esatto C'è il comparto Gastronomico Perfetto Allora Quello dell'oro E' realmente Poi E' un'industria Però viene considerata Ancora Secondo me Sbagliando Un'attività Artigianale E' un'attività Industriale A tutti gli effetti Perché ha un suo mercato Importantissimo Loro Indubbiamente Sì è anche un bene Rifugio in questo momento Perché Sì bravo Allora Mi dispiace Per gli amici Che trattano Elettronico Oppure altri C'è investire C'è investire in questo momento Che ci sono anche Dei fondi di investimento In oro e in argento Quando la borsa Va male Quindi che questi fondi Incominciano a salire Ingettano oro e argento Dai mercati E fanno salire Le quotazioni Non c'è un pochino Di malizia In questa attività Secondo te Allora Diciamo C'è un po' Malizia no Ma più che altro C'è anche un rischio Perché da un giorno all'altro Come ti aumenta il capitale Come diventa inaccessibile Allora Devi studiare Infatti Anche nel campo dell'oro Si è ridotto molto il peso Si fa l'oro nove carati Che prima in Italia Non si usava Non mai usato E ancora Per venire in conto Addirittura E' quello l'egiziano 24 Mi pare No 24 Ma non è che è bello A vedersi Perché Si E' un po' più duro In Egitto Mi pare In Egitto Però Si incomincia a vedere Nelle vetrine L'oro nove carati Addirittura Le fedi Nuziali Di 3 grammi Cosa che non esisteva Prima Stanno insistendo Mario Jenny Roberto Vi ringrazio Baci a tutti quanti voi Vi voglio un bene dell'anima Facciamo finire l'amico Vai scusami Roberto Se no Mi continuano a cliccare Poverino Allora Indubbiamente Ancora in questo momento Il nostro prodotto E' un bene rifugio L'artigiano Orafo E' quello che funziona meglio Dell'industria Questo lo devo dire Anche questi grossi gruppi Diciamo Chiedono persone Che assemblano E rifiniscono Perché la mano Dell'artigiano vero Nel nostro Da voi arriva la materia grezza La materia grezza Ed esce il gioiello No Si fa prima il disegno Ormai con Vabbè certo Io lo dico per verità Allora Se parliamo del prodotto industriale Ci sta una catena Che fa tanti pezzi Poi Una volta assemblati Bisogna rifinirli E se non c'è la manualità Viene fatto ancora a mano E questa Questa è una cosa Meravigliosa Perché nessuna macchina Probabilmente Riuscirà mai A sostituire La mano Dell'uomo Antonio Che l'uomo Dalle mille sorprese Anche mille iniziative Si è reso veramente famoso Per tante bellissime Iniziative Anche Molta sperimentazione Mi incuriosisce Io non ci vedevamo Da un po' di tempo Stai sperimentando qualcosa? No Beh Se puoi fare queste anticipazioni Voglio dire chiaramente Diciamo che si cerca sempre L'innovazione Di tenerla viva Però Negli ultimi tempi Ci siamo fermati Un pochettino Perché stiamo Stiamo lavorando Che Mo ti faccio Una confidenza Tanto non ci sente nessuno Siamo soltanto 10.000 persone Tra poco apriremo Ancora un altro locale Stiamo lavorando Sulle aperture E questa è una bellissima notizia Però Dice Abbiamo detto già diverse volte Sei quello che ha fatto La sfogliata con la ragussa Mannaggia la miseria Io veramente Vado al manicomio La prima sfogliatella Fatta 32 anni fa Con assice e zucchine Internamente Andarono a ruba E costano La prese in bomba Ad un buffet di benvenuto A corte delle uni Solo che Chiaramente Poi capimmo Che non la potevamo Vendere nei locali Perché costava tante E la dovettimo Impoverire Ma non di qualità Con un prodotto Sostituendo la sfogliata Sostituendo la sfogliata Sì Mettemmo Poi la seconda E' nata quella La salsiccia e friarie Che poi è stata La più copiata In assoluto Quello che ha avuto Più successo Poi ce ne sono tantissime Poi hai fatto La borbonica Oggi di salate Abbiamo una gamma Di 14 Tra cui 5 Sono state ideate E firmate Da 5 chef stellati Mentre le dolce Abbiamo una gamma Di 22 Spogliate dolce Un po' Di tutti i gusti Poi come tu ben sai L'abbiamo fatta La spogliatella L'abbiamo fatta Scrivere Nel libro di storia Facendo un Guinness Dei primati Facendo una spogliatella Di 92 kg E noi ce l'avamo Con le nostre telecamere L'abbiamo fatta diventare gelato Facendo Sostituendo il cono Del gelato Stai dimenticando Quella che a me piace di più La spogliatella fritta Ah la spogliatella fritta Sì Io sono stato il primo E noi per anni abbiamo Mi sono tuffato Su quella spogliatella Delizioso Per anni abbiamo Sì Abbiamo sempre lavorato Sugli ingredienti interni Poi Per un periodo Quasi per due anni Abbiamo lavorato Cambiando il sistema Di cottura E con quella fritta Guardate Veramente è stata Una grossa impresa Perché tu considera Sarebbe stato facile Prendere una spogliatella Normalmente E buttarla nell'olio Però Per come è fatta La spogliatella Sicuramente Si sarebbe Ma poi vengo a disturbarti Ne voglio una Cosa? Vengo a disturbarti Ma la state facendo ancora Chiaramente? Sì Abbiamo comunque Abbiamo dovuto modificare L'imbologo esterno Eliminando i grassi Chiaramente Dall'imbologo esterno Principalmente Perché poi Al contatto con l'olio Insomma Non si rilassava Era deliziosissima Molto molto E la cosa bella Che l'abbiamo chiusa in modo Che non va l'olio Internamente Abbiamo aumentato La percentuale di ricotta Difatti la chiamavo La cremosa Proprio perché È molto più morbida Molto più Quella che mi piace a me Raga Io sono corosissimo Gigi Noi siamo Quasi al rush finale Quest'ora vola Come vedete E Cosa manca All'industria campana Ma più in generale All'industria meridionale Per fare il salto Di qualità Necessaria Per poter poi Sopperire alle carenze Occupazionali Di questi territori Noi parlavamo Di macro regione Prima Te le camere spente Ti ricordi? No Infatti sono Diciamo Delle cose che in parte Debbano fare gli imprenditori Quindi così come fa Antonio Nell'innovazione tecnologica Dei processi Di produzione Di materia prima E un'altra invece È proprio Parte la formazione Che va fatta Così come Fanno anche gli orafi All'interno delle aziende E quindi formano il personale Ma l'altra parte La parte più grande Deve essere fatta Dalle istituzioni Istituzioni regionali Nazionali Quindi pochissime speranze Abbiamo Pochissime speranze Anche perché C'è forse Un problema Di visione Inclusiva E Diciamo Anche di competenze Di queste dinamiche commerciali Perché se Iniziamo a pensare Che Il presidente del consorzio Asi Avellino Ha chiesto Di voler ampliare Il consorzio Asi E quindi Includendo alcuni comuni esterni E poi Per attirare Imprese Ma un industriale Che viene ad investire In questa provincia E non ha servizi primari Infrastrutture E tutto quello che serve Per la lavorazione Pensate che Ferrero A Sandaggio dei Lombardi C'ha la navetta propria Per fare La raccolta Del personale Per portare in azienda Perché non ci sono Servizi e mezzi pubblici Di trasporto Allora Lo può fare Ferrero Perché Ferrero È una multinazionale È una grande azienda Ma quanti Ferrero Abbiamo in Campania E ad Avellino Che possono permettersi La navetta Per raccogliere Il personale Da portare Nel luogo di lavoro Allora Pensare di rafforzare Strutture industriali Che sono nel centro Di Napoli Caserta Salerno E che possono esprimere Numeri Che possono dare lavoro E che possono evitare Che giovani Vadano a lavorare All'estero E parliamo di industriali Che pagano bene Le proprie maestranze Questo è comunque Un primo passo Per far crescere L'economia E il PIL Della regione Campania Ma pensare Di sprecare Risorse pubbliche Tra quali Anche il PNRR Perché abbiamo Come regione Campania Un'assegnazione Di 136 miliardi Che stanno cercando Di spendere A me mi spaventa un po' Sai questa cosa? A me di più Perché io non mi fido molto Di questo progetto PNRR Perché poi l'ho anche Un pochino studiato Anche sempre in relazione Alla questione macro-regionale Io dico una cosa C'è una desertificazione Ed non era una provocazione Era veramente una fotografia Di quello che rappresenta Imprenditorialmente Sergio pensa che a Napoli Ogni azienda Al Tribunale Ogni giorno Al Tribunale di Napoli Fariscono 30 imprese Periferica Che è parte della città Che deve essere interessata Perché noi Quando parliamo di Napoli Napoli non è solo Piazza Caribaldi O la strada principale Via Caracciolo Posillipo E quindi San Gregorio Armeno O l'altra Borgo Refici Quindi Ma Napoli anche San Giovanni Atteducci Barra Ponticelli Chiaiano E quindi è tutta L'area che fa da cerniera Con i comuni Che sono di periferia Alla città Capoluogo Ma lo stesso vale anche Per Caserta Vale per Salerno Vale per Avellino Vale per Benevento Ma queste ultime I giovani vanno via Quindi non restano Ad Avellino Non restano a Benevento Per cercare lavoro Vanno a nord O vanno all'estero Quindi Questo è un compito Che la politica Dovrebbe Diciamo Farsi carico Iniziare a pensare A programmare Per il futuro Della nostra regione Ma attualmente È latente Quindi si pensa Molto a spendere E poco a programmare Con strategia No ti voglio Proprio brevemente Perché Io vorrei che la gente Da casa Ci ascoltasse Veramente con grande attenzione Io sono stato quello Che disgraziatamente Incontrò Il ministro del Rio Quando era ministro Delle infrastrutture Gli chiese Ministro A Matera Stanno aspettando Il treno Da 160 anni La risposta più idiota Che poteva dare Un uomo vestito Da ministro A Matera Ma a Matera ci stanno Le montagne A Torino In Piemonte Hanno una linea Ferroviaria A 40 binari Dove Circolano 400 treni Al giorno La Torino Lione Una cosa Inutile Perché ne hanno Già un'altra Che ne fa camminare A 40 Che sono quelli La utili Gli altri Sono solo sulla carta Perché Non credo che Viaggino 403 E qua Non abbiamo La Carenza delle Infrastrutture Ma Non è una Volontà Chiara Netta Politica Ti voglio portare Solo un altro esempio Che è molto più facile Quindi da risolvere Noi qua Oggi parliamo Di fibra E di 5G Quindi Digitale No io voglio andare al cuore Ho capito dove stai parlando Io ti capisco No però io voglio dire Tu mi devi spiegare questo Perché Se Antonio Ferrieri Mette in attività A Milano Pagherà Un tasso Bancario Del 6% Più basso Di quello Che pagherebbe Aprendo Un'attività Qui in Campania Ci sta Ci sta Noi non siamo Competitivi Con il Nord Perché il Nord Non vuole Competitori interni Pensate Che il Nord Che è così bravo Produttivo E laborioso Riesce ad esportare Soltanto il 13% Del loro prodotto interno In Europa Sapete L'altro 67% Dove va a finire Sulle tavole Dei meridionali Loro hanno Desertificato Tutto ciò Che parte Dalla Campania Fino all'ultima Provincia etnea E vendono Prodotti che comprano Da noi A 4 pidocchi Li imballano E ce le rivendono A un No ma C'è un'altra cosa Che molte di queste aziende Quindi l'imprenditore meridionale Deve fare tre volte La fatica Di quello che fa Un imprenditore del Nord Ma molte di queste aziende Che stanno anche al Nord E che portano il brand italiano Non sono nemmeno Di proprietà italiana Sono unilevo Ormai si c'è Quindi ma la stessa Come si chiama L'amaro Quello siciliano L'amaro Averna Non è più italiano Allora Quante aziende Da tempo Quindi quante aziende Sono rimaste italiane E quante aziende Lavorano in Italia E producono per l'Italia Un signore che a me Sta particolarmente Antipatico Che sia uno Bill Gates Ha comprato 4 marchi di birra Nostri Compreso la Messina E la gente È convinta Di andare a comprare Una birra siciliana Sta comprando una birra americana Perché? Credimi ho fatto lo stesso errore Pensavo fosse siciliana Messina Invece ho visto l'etichetta Non era di Messina È americana La birra Messina Ragazzi La Veronica era italiana Non è più italiana Io ho proprio un telegramma Turismo Verocio Auspicio Il turismo I dati sono confortanti Sono in crescita E basti pensare a Pasqua Dove a Napoli Abbiamo registrato Oltre 220 mila presenze Nel capologo campano Grazie Roberto Allora Bisogna inventarsi qualcosa Per andare avanti Questo è importante Allora Io voglio rubare qualche minuto Ai miei ospiti Gratitissimi Oltre che amici Tutti quanti Per salutare veramente Tutta la squadra Io non lo faccio quasi mai Però è l'ultima puntata Ho il dovere Di ringraziare La redazione A partire dal direttore Che è Antonio Mattia Che ci sta guardando Sta a fondi Con la redazione nostra romana Esmeralda Per quanto riguarda Procida Però Sara Barone Giuseppe Silvestri Per il calcio Lo sport Antonio Antonio Russo Per la cultura Siamo veramente Siamo una bella squadra Poi ci sto anche io Umilmente Che ogni tanto Do fastidio un po' A tutti quanti Però quello che è bello È che ci state sempre voi È che ogni anno ci seguite Questa qua è l'ultima puntata Di questo ciclo Bellissimo È stato anche molto emozionante Quindi io devo ringraziare Anche Fabrizio e Gianluca Che hanno una pazienza Straordinaria Gianluca alla regia E Fabrizio Tecnico Camere E anche Luci Sono due ragazzi Meravigliosi Grazie ragazzi Stanno di fronte a me Voi non li vedete E lo faccio veramente Di vero cuore Ringrazio l'emittente Che ci ospita Credo volentieri Gianluca E ringrazio soprattutto Voi che da casa Avete la pazienza Di ascoltare questo pazzo Che ogni tanto Vi dice delle verità Io avevo portato Nel mio zainetto Una letterina È verde Che mi hanno scritto Di ragazzi Dove abbiamo fatto Un corso di giornalismo In una scuola media Di San Giorgio a Cremano Mi hanno Grazie Scusate Mi allontano Un attimino proprio Non è questa È una lettera Proprio verde È una busta verde E dove questi ragazzi Ci scrivono sostanzialmente Grazie per averci insegnato A raccontare La verità Da questa Da questa Sede Da questa Tessata giornalistica Voi sentirete Sempre e solo Esclusivamente La verità Delle cose Così come stanno Non ci siamo mai Asserviti A nessuno Non abbiamo avuto mai Padrini Nemmeno padroni E quindi Siamo orgogliosamente Uomini liberi E raccontiamo Come vedete Anzi vorrei che la leggesse Proprio il mio amico Luigi È il suo problema Ah che carino Leggila tu che sei più alta E quindi Niente Io vi ringrazio Ancora una volta Mentre giù si legge A Sergio Grazie per averci insegnato L'arte Della verità E grazie anche a questi ragazzi Ai quali Veramente mando un bacio Affettuosissimo Sono stati come dei figli Per me Ho firmato il loro Tesserino Di giovani giornalisti Grazie a tutti quanti voi Noi ci vedremo Spero Nella prossima edizione Nuova struttura Sempre stessa rete Sempre stessa giornata E Nuovo logo Perché sarà qualcosa Di diverso E anche più simpatico Secondo me perché Questo qua dopo otto anni È diventato un prodotto obsoleto Ci andiamo a rinnovare anche noi Grazie ancora Ci vediamo Buone feste Buone vacanze Buono tutto A tutti quanti voi Buonasera Cuore di sfogliatella Siamo a Corso Novara 1E1F Piazza Garibaldi 93 e 94 Via Toledo 271 E all'interno Della Fodol Nella stazione centrale Di Napoli Cuore di sfogliatella Chiocciolagmail.com Dottor Maurizio Gargano Medico chirurgo odontoiatra Via Luigi Caldieri 60 gradi Dalla progettazione Dalla progettazione Alla stampa offset Dalla pubblicità Al web marketing Cataloghi, libri, brochure Packaging personalizzati Di ogni tipo Allestimenti stand Banner E stampa digitale Su qualsiasi supporto E dimensione Affidati alla nostra professionalità Perché crediamo che L'eleganza nell'immagine Non è farsi notare Ma farsi ricordare Ti aspettiamo a Napoli In via vecchia Puggerale 45 O se preferisci Scrivici una mail Info Chiocciola Apicoltura Vesuvio L'apicoltura Vesuvio Nata nel 1984 È ad oggi Una realtà consolidata E ben nota In tutto il territorio vesuviano Grazie alla qualità E dalla genuinità Dei suoi prodotti Le sue arnie Posizionate alle pendici Del Vesuvio Permettono la produzione Di diversi tipi di miele Monofloreale pregiato Che viene raccolto E lavorato Senza alcuna aggiunta O modifica Al prodotto offerto Dalla natura E dal grande lavoro Delle arnie L'ambiente Ancora incontaminato Del parco del Vesuvio L'accurata selezione Degli sciami E l'assoluta genuinità Della lavorazione Rendono i prodotti Dell'apicoltura Vesuvio Adatti ad ogni uso Sia esso terapeutico Che gastronomico L'apicoltura Vesuvio Si trova a Del Colano In traversa Belsito 14 www.apicolturavesuvio.it La riviera di Partenope Cucina tradizionale napoletana E favolosi piatti gourmet Siamo a Napoli In via Riviera di Chia 214 Telefono 08119338714 Cucina tradizionale napoletana